Si trova attualmente agli arresti domiciliari presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Monsignor di Miccoli di Barletta, Nicola di Lernia, 30 anni, originario di Margherita di Savoia, che è stato arrestato per aver aggredito i carabinieri intervenuti dopo la tragedia sfiorata a bordo della sua Fiat Panda, Margherita di Savoia. L'uomo stava sfrecciando lungo corso Vittorio Emanuele, come si vede anche dalle immagini di videosorveglianza, al centro della cittadina del sale, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un'auto parcheggiata di proprietà di alcuni turisti francesi. Per fortuna non ci sono state vittime, considerato che l'impatto è avvenuto in prossimità di un'edicola e di un bar. I militari hanno ritrovato il contachilometri fermo sui 120 km orari, l'autista era privo di patente già revocata in precedenza e il mezzo era senza assicurazione, oltre a essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test previsto per legge.